L'alternanza scuola-lavoro è un'opportunità formativa che riguarda i trienni delle scuole superiori, compresi i licei. È una novità introdotta con la buona scuola e da quest'anno rappresenta un obbligo per tutti gli studenti che prima di poter conseguire il diploma dovranno frequentare delle ore di stage nelle aziende. Anche Teleelba e TN News hanno ospitato i ragazzi del liceo che ci hanno spiegato le modalità, i problemi e i pregi dell'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è un'innovazione entrata in vigore quest'anno con la buona scuola e consiste nel trascorrere del minimo di 200 ore per i licei e 400 per gli istituti tecnici e professionali in un ambiente di lavoro e la vera finalità sarebbe quella appunto di trovare la propria strada per poi avere un aiuto quando una volta conclusa la scuola si dovranno intraprendere gli studi. Però diciamo che a nostro parere il fine, già l'intento era nobile ma poi le cose come sono andate si è perso un po' di vista diciamo il vero intento perché adesso l'importante è appunto portare a termine queste 200 ore in tutti i modi possibili quindi facendo qualsiasi cosa anche totalmente opposta ai nostri indirizzi scolastici. Le scelte che ci ha proposto la scuola sono state molte anche se nell'isola non c'era vasta scelta come magari nei territori in continente. Per quanto riguarda invece la seconda settimana non mi hanno lasciato scegliere però mi hanno indirizzato alla Capitaneria di Porto e sono molto contento anche di quello. Gli aspetti positivi per quanto mi riguarda ce ne sono abbastanza perché ci hanno dato la possibilità di scegliere i luoghi dove condurre il tirocinio e per noi studenti del liceo può essere considerato come anche una scelta anche per quanto riguarda la scelta dell'università dovrebbe orientarci oltre a farci crescere anche in modo lavorativo. Un posto come l'Elba dove si vive soprattutto di turismo i ragazzi come voi potrebbero anche scegliere d'estate di trovarsi un lavoro diventa un po' complicato in questo modo. Noi ragazzi puntiamo a fare dei lavori estivi per guadagnare mentre in questo modo... Questi ragazzi che sono un po' i pionieri di questa novità formativa hanno riscontrato anche alcuni problemi per riuscire a rispettare le ore di stagio prefissate per legge e soprattutto agli studenti che frequentano la quarta. Ci siamo trovati in difficoltà non avendo potuto accumulare ore lo scorso anno e quindi dovremo fare molte più ore il prossimo anno che sarebbe da dedicare all'esame di stagio.